Nei dieci giorni russi durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici, sempre nel limite massimo di due persone oltre minore di 14 anni, alle persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono, anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa regione. E quanto precisa Palazzo Chigi, nell'aggiornamento delle FAQ sul sito del Governo. Lo spostamento è consentito una volta al giorno tra le 5 e le 22. Nei giorni indicati con l'arancione durante le feste di Natale 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile per chi risiede nei comuni sotto i 5.000 abitanti spostarsi tra le 5 e le 22 anche in un'altra regione, sempre però entro i 30 chilometri alla propria residenza e senza andare verso i capologhi di provincia. Si sottolinea che sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Chi si trova fuori regione potrà comunque rientrare alla propria residenza a domicilio o abitazione. Allo stesso modo sono consentiti gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, senza distinzione tra giorni e orari. Per quanto riguarda l'apertura agli esercizi commerciali, fino al 23 dicembre 2020 rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano invece le nuove disposizioni previste al cosiddetto decreto Natale. In particolare, nei giorni festivi e prefestivi, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone rosse. Negli altri giorni, 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le zone arancioni.